E' un piccolo segno ulteriore di un ritorno della nostra città ad una condizione che definire normale non è proprio possibile, viste anche soltanto le mascherine, le distanze che siamo tenuti a rispettare, ma tornare a incontrarci fisicamente, a poterci ascoltare, a dibattere, credo che sia di per sé una cosa bella. E mi fa piacere che l'occasione sia la presentazione del libro di Carlo Calenda, perché con Carlo ho un'amicizia vera, una stima profonda ed è la ragione per cui nonostante le scelte che Carlo ha fatto nell'ultimo anno, ho voluto essere qui questa sera con lui e introdurlo in questa presentazione. Perché penso che alcune differenze ovviamente ci siano tra il suo modo di vedere la situazione politica, il futuro del nostro paese e il mio modo di vederlo, vi anticipo questa differenza attiene sostanzialmente agli strumenti, non i contenuti, non i valori, non gli obiettivi. E però sono molte di più le ragioni che ci tengono vicini, pur informazioni politiche diverse. Tra le cose che ci avvicinano secondo me c'è una concretezza, un modo di guardare la realtà che non riesce mai a prescindere dai dati di fatto, e che non antepone le ideologie all'osservazione della concretezza dei fatti. Questo non vuol dire non avere valori, anzi, io credo che i valori nei quali ci riconosciamo, e volutamente uso il C, perché ho ritrovato nella lettura dei mostri cose che penso, cose che rappresentano la mia storia anche, di persona innamorata della politica, sin da quando facevo il liceo classico in questa città. La definizione di socialisti liberali tiene dentro quella idea di sinistra, laica e liberale che io profondamente sposo, e vi devo dire non da oggi, ma da quando appunto al liceo Sarpi cercavo di fare politica, tu forse non te l'ho raccontato, lo facevo in un gruppo politico che si chiamava Azione e Libertà, e qualcuno in questa sala forse se lo ricorda. Carlo è stato un manager nella sua vita, nella sua carriera professionale, e poi ha deciso di dedicare tempo e energie alla politica. E' un po' anche quello che è successo a me, come sapete, da quando nel 2011 ho deciso di chiudere una fase della mia vita e di provare a dedicare tempo alla politica e alla mia città. Concepiamo credo la politica quindi come servizio, non come professione, sia lui che io potremmo domani tornare a fare altri lavori, però pensiamo che sia necessario in questo momento soprattutto dedicare le nostre energie al nostro paese. Io in una dimensione molto più piccola, che è quella della città di Bergamo, lui su una scena nazionale. Condividiamo l'idea che il nostro paese sia malato, non lo sia da oggi, non lo sia per colpa del Covid, ma lo sia da molto tempo prima per tutta una serie di scelte sbagliate o non scelte fatte in precedenza. Il sintomo, l'indicatore di questa malattia è il fatto che il nostro paese non cresce da molto tempo, il nostro paese ha valori di produttività non comparabili con quelli degli altri paesi europei e quello è l'indicatore, credo sia anche l'opinione di Carlo, del fatto che difficilmente noi potremo affrancarci dalla condizione di debolezza, di fragilità e di elevato debito che caratterizza il nostro paese se non torneremo a crescere. Un'altra cosa che condivido, che è raccontata molto bene nel libro, è l'idea che la politica non sia una specie di accidente, una cosa capitata all'Italia come una sciagura che consenta ai cittadini di additare i politici come responsabili di ogni male. In realtà la politica è davvero specchio della società e quindi bisogna essere onesti con noi stessi nel dire che se le cose non funzionano al meglio, questo è perché la maggior parte dei cittadini non ha una consapevolezza adeguata per poter leggere con realismo la situazione, per poter prendere posizione, per poter interpretare i cambiamenti, per potersi orientare in una fase in cui la società, non soltanto quella italiana, sta cambiando così velocemente. Il termine che Carlo usa spesso, l'avrete già ascoltato, è quello di analfabetismo funzionale, è la distanza tra la conoscenza, la consapevolezza che sarebbero necessari per potersi orientare nel mondo e il grado invece che si riscontra. E guardate, questa cosa è molto importante perché spiega perché la politica italiana è andata in una certa direzione, spiega il successo del populismo e del sovranismo che non sono soltanto in Italia, ma in Italia sono arrivati a governare il paese, spiega perché tante persone siano vulnerabili alle parole, agli slogan, alle parole facili, alle promesse facili, perché ci sia paura e incertezza tra tanti nostri concittadini di fronte ad un mondo che non riusciamo bene a capire. Del resto, se il livello di istruzione non è adeguato, se le letture non sono adeguate, guardate, sembra un po' un discorso un po' noioso, ma sono dei fattori molto importanti. Se la metà degli italiani non legge neanche un libro all'anno e se la lettura dei quotidiani è andata in questi ultimi anni ulteriormente precipitando, questa cosa davvero sottrae gli strumenti per potersi orizzontare ed essere padroni del proprio destino nel momento in cui si va a votare. Ci sono molte altre cose che ci accomunano. Per esempio, appunto, l'idea che l'istruzione sia un fattore assolutamente chiave. Fa la differenza, consente ad una democrazia di essere tale. E l'altra, che una democrazia si regge, una democrazia liberale ha possibilità di avere un futuro, se funziona, se cioè concretamente va incontro e risolve i problemi dei cittadini. Una democrazia impantanata, incapace di decidere, è una democrazia che apre delle autostrade invece al populismo, al sovranismo, a queste facili ricette che, mitizzando un passato che vi garantisco non era migliore di oggi, alimentano un sentimento di nostalgia, illudono i cittadini che chiudendo i confini, alzando dei muri, sia possibile difendersi e che stare da soli sia meglio che stare insieme agli altri. Abbiamo in comune l'idea che l'identità non sia una cosa di destra, ma che sia un elemento molto importante, sottovalutato dalla sinistra, a mio giudizio, soprattutto in una fase in cui appunto non ci sono più le ideologie che rappresentavano delle architetture che davano sicurezza alle persone, si stava dentro una casa ideologica e quello ci garantiva protezione, non ci sono più, sono crollate. E a quel punto l'identità, pensate quanto è importante per noi bergamaschi sentirci bergamaschi, quanto è stato importante in questi mesi riconoscerci in una cultura, in valori, nel senso della disciplina, nella sobrietà, del lavoro, quanto è stato importante nel momento della difficoltà. Ora, questa cosa si può qualificare come un sentimento di destra, io proprio non credo, eppure in una certa lettura, secondo me un po' superficiale, si è regalato a quella parte politica che consideriamo tutte e due quella avversa, questo elemento di insediamento, di posizionamento che l'ha resa più forte. Potrei continuare, sono molte le cose ma io non voglio rubare tempo, ci sono anche delle cose, come vi anticipavo, sulle quali la pensiamo in modo diverso. Il giudizio di Carlo, per esempio, sulla nascita del governo Conte-Biss, nell'estate scorsa, è stato diverso da quello che ho dato io. Carlo ha pensato che quella scelta da parte del Partito Democratico, che era il suo partito, come era il mio, e che lo aveva portato ad essere tra i più votati alle elezioni europee del 2019, l'ultimo appuntamento pubblico che abbiamo fatto insieme è stato in piazza Vittorio Veneto, era la mia campagna elettorale per il comune ed era la sua campagna elettorale per l'europeo. Il suo giudizio è stato che quella scelta fosse profondamente sbagliata, che non si dovesse fare, che rappresentasse un tradimento dei nostri valori. Io ho pensato invece che quella scelta fosse tatticamente una scelta di male minore, non che il male minore sia la cosa che mi ispira, che mi riempie di entusiasmo, di solito non scelgo il male minore, però penso che rispetto a quello che poteva capitare realisticamente, diciamocelo, l'anno scorso, se fossimo andati a votare, che era l'alternativa alla nascita di quel governo, sarebbe stato per il nostro Paese molto pericoloso. Avremmo affrontato una recessione, ovviamente non potevamo sapere del Covid, ma avremmo affrontato una recessione in una posizione di grande debolezza, perché nel frattempo si era picconata ogni forma di alleanza europea. E poi, visto che il Covid è arrivato, pensate che tipo di gestione avremmo potuto avere di quella situazione e quante altre scelte profondamente pericolose e sbagliate si sarebbero fatte per il nostro Paese. Io credo che si sia quindi fatta una scelta adeguata all'urgenza di quel momento. Penso che sia stato importante ricucire un rapporto con l'Europa. Il fatto che ci sia in Europa una persona del calibro di Paolo Gentiloni è per me un elemento di fiducia e di sicurezza. Penso che si sia affrontata l'emergenza Covid in modo dignitoso, tenendo conto del fatto che l'Italia è stata la prima democrazia al mondo, dover affrontare quel nemico sconosciuto e violentissimo. Altra cosa è stata per la Cina, ma la Cina non è una democrazia. E si sono fatti sicuramente degli errori, ma credo che sia da mettere nella colonna delle cose col segno in più. Dopodiché, non ho nascosto, perché non sono uno che di solito si tiene le sue opinioni per sé, anche le obiezioni che invece mi sono sentito dimuovere all'azione di governo innanzitutto e a quello che rappresenta in quel contesto me come tesserato del Partito Democratico e quindi possessore di un'azione di quel soggetto che ha dato vita e che sostiene il governo. Cioè ho trovato tante cose sbagliate, ho trovato che sia stato sbagliato cedere in molti frangenti, rinunciare a cambiare delle leggi sbagliate fatte nel periodo del governo giallo-verde, rinunciare a cancellare per esempio una legge profondamente fallimentare come quota 100 che sottrae risorse a finalità ben più importanti senza produrre alcun risultato. Abbiamo speso 20 miliardi di euro per mandare 230 mila persone in pensione in tre anni, senza creare posti di lavoro. Perfetto. Questo per farvi un esempio, ma sul piano per esempio delle cose che si sarebbero dovute cancellare, che abbiamo detto noi tante volte che avremmo certamente cancellato, pensate ai decreti sicurezza, in realtà insicurezza per la quantità di nuovi irregolari che sono stati sparsi sul territorio nazionale a seguito di quella scelta. E altre scelte nuove abbiamo subito nella sostanza. Cioè abbiamo subito una norma sulle intercettazioni telefoniche, che abbiamo subito la cancellazione di un diritto fondamentale, che è quella della durata certa di un processo con la cancellazione della prescrizione. Abbiamo accettato un taglio del 30% della rappresentanza parlamentare, che a mio giudizio è un altro errore. Dopo aver votato tre volte di no, alla quarta abbiamo votato sì. Quindi non posso dire che ci sono state fatte solo cose buone. Ci sono anche delle cose che non hanno funzionato e credo che sia avvenuto per una condiscendenza, per una acquiescenza alla fine, per una debolezza politica del partito nel quale io mi riconosco. Ma mi riconosco, questa è la differenza infine più rilevante, ancora convintamente nel partito democratico, perché penso che sia importante per questo paese che ci sia una grande forza del centro-sinistra. Mi riconosco nel disegno da cui è nato quel partito nel 2007, cioè dalla confluenza di culture socialista, socialdemocratica, liberali, popolari, cattoliche, dentro un grande partito variegato, come sono tutti i grandi partiti, vi ricorderete la democrazia cristiana non era certo un monolite, ma penso che possa ancora oggi rappresentare il principale soggetto di modernizzazione del paese. Certo va cambiato, certo va cambiato, se devo guardare con onestà alla situazione, alla mia collocazione e a quella di tante altre persone che, in modo un po' sommario definisco, riformiste dentro il partito democratico, certo forse oggi non siamo maggioranza all'interno della comunità degli iscritti quantomeno. Ma io credo che così come in altre stagioni al governo della ditta è succeduta un'altra maggioranza, una nuova segreteria e nuovi equilibri all'interno di quel partito che poi si sono infranti dopo aver colto grandi successi, poi hanno fatto grandi errori, così in un partito democratico, di fatto non soltanto di nome contendibile, sia possibile immaginare nel futuro, quando ci saranno le condizioni di poter riportare il PD ad essere una grande forza riformista. E in questo riavvicinarlo anche alla possibilità di collaborare fuori da preclusioni essenzialmente ideologiche, con forze che in questo momento stanno dall'altra parte della barricata. Questa è un'altra cosa sulla quale pensiamo più o meno nello stesso modo. Cioè, cosa succede? Che oggi noi abbiamo una divisione, permane una divisione destra-sinistra, piena di ambiguità, perché poi insomma qualcuno mi dovrà convincere che il Movimento 5 Stelle è un partito di sinistra, io penso esattamente il contrario, ma tendenzialmente quella è la divisione. E così succede che socialdemocratici, non è esattamente la definizione che darei del mio pensiero, e liberaldemocratici in Italia stanno da parti opposte della barricata. Si sono scontrati negli ultimi trent'anni, molte volte, in modo molto violento e molto ideologico. Gli uni dando agli altri dei comunisti, gli altri dando agli uni spesso dei, forse fascisti no, ma comunque indicando un pericolo per la democrazia a più riprese. Ora questa cosa succede in Italia e non succede in Europa, dove le forze popolari, liberaldemocratiche e socialdemocratiche lavorano insieme, perché sono molti di più gli elementi che hanno in comune che non quelli che li dividono, soprattutto se devono confrontarsi con populisti e sovranisti, perché anche in Europa ci sono populisti e sovranisti, ma liberaldemocratici e socialdemocratici hanno ritenuto di mettere insieme le forze e di governare e di dare un governo stabile all'Unione Europea. Ora questa cosa secondo me potrebbe, non so se succederà, non so se succederà. Mi sarebbe piaciuto se succedesse per votare il MES, però oggi ho visto che hanno buttato un po' in là la palla. Ma è sperabile che possa secondo me accadere per uscire da questa condizione per cui si è o sotto ricatto di una parte estrema o dell'altra. Io penso che il Paese abbia bisogno di trasformazioni profonde, incentrate in primo luogo sul lavoro. Io credo che non ci sia altro modo, come la vedo io, perlomeno che mi sento ancora, oggi mi ha detto Carlo che lui è diventato di centro, ma io mi sento invece di sinistra ancora, penso che non ci sia altro modo per realizzare l'obiettivo, il sogno della sinistra che è quello di liberare le persone dell'oppressione sociale e culturale, che è dare alle persone gli strumenti per poter lavorare dignitosamente, per potersi istruire, qualificare, migliorare nel corso della vita. Quello serve, non assistenza per tutta la vita. E questo credo che serva al Paese per tornare a crescere, quindi di nuovo per tornare anche ai numeri, perché servono, bisogna tenere conto anche dei numeri, rendere sostenibile quel debito che la crisi Covid proietta verso i 2.500 miliardi di euro, giusto per ricordare. Mi fermo qua perché il protagonista della serata è Carlo e perché il suo libro è pieno di spunti interessanti. Poi magari se alla fine ci sarà tempo per le domande e se avrete voglia di farle oltre che al protagonista anche a chi ha introdotto, sono ovviamente a vostra disposizione. Grazie. Allora, ringrazio Giorgio, che è ormai un amico, abbiamo fatto tante cose insieme e abbiamo, diceva lui, il 99% del pensiero in comune. Bisogna vedere se lui lo realizzerà nel PD o io fuori dal PD, ma comunque lo realizzeremo insieme perché alla fine la classe dirigente di un paese è una classe dirigente più vasta e collabora rispetto al movimento politico di cui fa parte. E se c'è una speranza per questo paese, ed è un pezzo del libro, di avere una classe dirigente che cambia qualcosa, quella speranza si chiama esperienza amministrativa e gestionale. Guardate, questo è l'unico paese al mondo dove non conta nulla quello che hai fatto prima per farti fare quello che hai fatto dopo. Non esiste. Ma vi dico di più, non esiste nella vita privata di tutti gli italiani, tutti voi nella vostra vita, tutti quelli che sono fuori, tutti quelli che hanno votato il Movimento 5 Stelle, tutti quelli che hanno votato il Movimento 5 Stelle, ho dei dubbi, però diciamo quelli che hanno votato la Lega, chiunque, quando deve scegliere a chi affidare un'attività economica o chi assumere o con chi lavorare o con chi diventare amico vuole serietà, coerenza, professionalità, competenza, eccetera. Semplicemente noi abbiamo un pezzo del lobo frontale che quando entra la politica in ballo incomincia a ragionare su un altro schema dove tutto questo non conta più assolutamente nulla. E quello che conta è se sei più di destra della destra, di sinistra della... non lo so Giorgio cosa vuol dire il centro, sono un socialista liberale, penso che il fondamento della democrazia è l'istruzione che libera l'uomo dell'asservimento, non so se sono di centro, so che sono normale diciamo, mi interessa quello. E penso anche che le persone normali, razionali, serie di questo paese a un certo punto insieme ci ci dovranno mettere, poi tu starai nel PD, io starò in azione, ci sarà qualcuno, speriamo, tra i popolari, quello che oggi è Forza Italia che avrà il coraggio di rinnovare quel partito perché se no noi saremo semplicemente l'unico paese nella diciamo Europa continentale a dover scegliere tra i populisti e i sovranisti senza avere niente in mezzo. Dove la scelta è tra il meno peggio dei 5 stelle, che urca al meno peggio, oppure la scelta è il meno peggio della Lega per chi è di destra e però non si riconosce nei valori della Rega. Però il libro non è solo su questo, non è su questo, il libro è la continuazione di un libro che avevo scritto che si chiamava Orizzonti, che si è un po' di noi, cioè che i 30 anni che vanno dall'89 a oggi hanno determinato delle fratture profondissime che non sono solo le fratture di disuguaglianza. Quello è un pezzo delle fratture, sono fratture economiche. Voi pensate che 750 milioni di posti di lavoro nella manifattura sono andati dall'Occidente all'Oriente, 750 milioni di posti. E noi abbiamo postulato, dico noi, dico tutti i liberali, hanno postulato che sarebbero stati sostituiti da milioni di posti nei servizi. 350 milioni di posti nei servizi sono andati da Occidente all'Oriente, perché per la prima volta nella storia i paesi in via di sviluppo hanno sviluppato manifatture e servizi insieme. Questo è un dato devastante per il lavoro, perché l'ha messo sotto pressione nell'Occidente. Un miliardo e duecento milioni di persone è uscito dalla povertà nei paesi in via di sviluppo, certo, ma vado a spiegare a un operaio dell'Embraco, dell'Alcoa, che loro hanno pagato il conto dello sviluppo di tutto il mondo, mentre il capitale non l'ha pagato. Voglio fare un esempio per essere chiari. Apple fa 255 miliardi di fatturato 55 di utile e paga lo 0,005% di tasse. Perché? Perché il capitale è mobile e il lavoro è fisso, il capitale può andare dove gli pare. Allora cosa succede? Che arriva la rincorsa a trarre il capitale. Per cui io dico faccio 22, 21, 25. Fatto sta che all'aumento dei profitti è diminuita la tassazione sui profitti. Questo è l'economist, non il capitale di Marx. Per cui la base fiscale che poteva dire guarda sì avete perso i posti di lavoro ma almeno vi finanziamo il welfare è venuta meno. Ma questa forse non è la cosa più dirompente degli ultimi trent'anni. La cosa più dirompente degli ultimi trent'anni è una cosa più profonda, più umana, più culturale, forse anche spirituale. E cioè l'idea che il progresso è andato a 300 km all'ora e la società è andata a 30 km all'ora. Tale per cui oggi noi abbiamo picchi avanzatissimi di sapere, tecnologia, scienza, medicina e un livello di analfabetismo funzionale, un livello di istruzione dell'uomo che è rimasto quello di molti anni fa. Quella che si chiama analfabetismo funzionale è quello. Cioè il fatto che tu hai una società velocissima, complicatissima, difficilissima, di cui non capisci neanche il funzionamento istituzionale e nessuno si è preso cura. Di darti gli strumenti per capirla e trovare un tuo posto lì dentro. E quando questo succede, e questo è successo prima, è successo nel passaggio alla fine dell'ottocento dalla società agricola alla società industriale, quando questo succede l'uomo si rifugia nell'identità, nella cosa più vicina che ha. Dice fermate il treno, io voglio scendere. Io sono italiano, non voglio avere a che fare con altri, si chiude la storia, fermatevi, a me non me ne frega niente della geopolitica, della globalizzazione, voglio stare a casa mia, si stava meglio quando si stava peggio. Questo è successo e ha dato vita a due guerre mondiali, perché genera il nazionalismo che è fintamente protettivo e poi il disastro. Noi queste cose le sapevamo noi progressisti, eppure non abbiamo fatto niente per invertirle. Questo era orizzonti selvaggi e in orizzonti selvaggi io cercavo di spiegare che l'uomo in questa dimensione in cui sente di non contare più niente, di non capire, è una situazione che c'è in tutto l'Occidente, è la crisi della democrazia liberale in tutto l'Occidente, ma in Italia è peggio. Perché? Eh, questo è oggetto del libro, perché è peggio? È peggio oggettivamente perché oggi l'Italia è il paese più ignorante d'Europa? Sì, avete capito bene, oggi l'Italia è il paese più ignorante d'Europa. Poi un signore ha fatto il fact checking del mio libro, mi ha detto che la Croazia e la Slovacchia si hanno messo uguale, la Croazia è un po' peggio, ma sì, direi di sì, perché il nostro benchmark non può essere la Croazia. 40% dei ragazzi che finiscono le scuole medie superiori ha competenze fragili o insufficienti, il 20% è la media europea. 33% degli italiani sono classificati nella statistica che fa ormai da 40 anni l'Occse come analfabeti funzionali, cioè non avendo la capacità di capire il senso di una pubblicità. Il 70% dei ragazzi del mezzogiorno, 50% su base italiana, non ha mai letto un libro. Questa è la patria del rinascimento e l'abbiamo ridotta in questo modo. E allora faccio una chiosa, io non potrò mai stare nella mia esistenza con chi sostiene, come fece Di Maio, basta con i pluri laureati nel paese che ha meno laureati d'Europa, perché per me quella non è neanche da destra alla sinistra, è il discrimine tra tutti i valori in cui credo e tutti i valori che combatto. Quelli sono i valori che combatto. Ora, il libro non è sulle cose che si devono fare in Italia, perché le cose che si devono fare in Italia, lo sappiamo tutti perfettamente. Cioè che bisogna investire più in istruzione e meno in pensioni, lo sappiamo tutti perfettamente. La domanda qui è perché cavolo non lo facciamo? E la risposta non è che non lo facciamo perché i politici sono cattivi e noi siamo buoni. Non è che non lo facciamo perché lo Stato è mal governato e noi invece siamo bravi imprenditori. Perché c'è un piccolo dettaglio che i politici li scegliamo noi e i politici governano lo Stato. E quindi ogni volta che noi diciamo i politici fanno schifo e lo Stato è mal governato ci diamo degli imbecilli da soli. Quindi i mostri non sono Renzi, non sono Salvini, non sono Di Maio, non sono Grillo, non sono persone, sono atteggiamenti. Io ne elenco sei di questi atteggiamenti, sono sei mostri. Questi mostri sono creati da noi, non ce li ha mandati come invece era nella mitologia greca nessuna divinità invidiosa, perché nessuna divinità potrebbe essere invidiosa di come sta l'Italia. Il primo mostro non è un mostro, è un mulino a vento. Il primo capitolo si apre con il capitolo 8 di Cervantes, Don Quixote, la famosa battaglia contro i mulini a vento. Ed è un episodio bellissimo perché il vero eroe, a mio avviso, sarà che il nome diciamo rimanda al mio stato fisico, è Sancho Panza e non Don Quixote. Perché Don Quixote arriva lì e guarda quei mulini e dice, non vedi quei mostri, io vado a pugnare con loro. Sancho Panza gli dice, ma quali mostri? Questi sono mulini a vento. E lui gli risponde, ecco sei un plebeo, non capisci niente. Quelli sono mostri e io li sconfiggo in singolar tensione. Corre, viene preso dalla pala, sbattuto per terra. E la cosa bella di Don Quixote non è che dice a Sancho Panza, oh c'avevi ragione. No, dice vabbè, sono stato sconfitto dal mostro, troviamone un altro. E cos'è il nostro mostro che non è un mostro? Il nostro mostro che non è un mostro è il fatto che nell'anno di Grazia 2020 noi siamo ancora allo scontro dei comunisti contro i fascisti. Noi nell'anno di Grazia 2020 abbiamo i commissari europei del gruppo socialdemocratico che la prima cosa che fanno nella bellissima sede di Bruxelles è cantare Bella Ciao per affermare che loro sono lì per fermare il fascismo manco fossero sull'appennino tosco emiliano ad attaccare le armate tedesche in ritirata. Questo vuol dire che l'Italia non ci sono i fascisti? Certo che ci sono. Non ci sono i razzisti? Certo che ci sono. Ho partecipato ieri a un incontro con una comunità ebraica dove forse il 10% degli italiani può essere considerato antisemita visto che dice che l'olocausto è stato molto esagerato 10% no 3 ma questo non vuol dire che il fascismo è l'argomento più importante che abbiamo in Italia oggi e non vuol dire che le alleanze le decisioni possono essere prese sulla base del fatto che chiunque sta dall'altro lato è fascista o viceversa comunista anche se perché se io la traccio questa storia se voi pensate questa cosa va avanti esattamente dal 1945. Noi oggi abbiamo questa visione ideale che facciamo sempre questo è il nostro gioco di società cioè di ricordare diciamo ah ma sai quando c'erano De Gasperi e Togliatti poi c'era un altro clima in questo paese. Andatevi a vedere le dichiarazioni l'uno sull'altro dopo la legge truffa in cui si davano del fascista e comunista e poi andando giù Tambroni il primo centrosinistra la strategia dell'attenzione Craxi Andreotti tutti sono fascisti tutti non trovate mai uno scontro in Italia fatto tra la destra e la sinistra ancora sta là Berlusconi che quando si sveglia ricomincia dicendo questo è il governo dei tre partiti comunisti e ricomincia perché questo è così importante? Scusate e dico e faccio un inciso spero di averne qualcuno in sala ma a voi vi pare normale che per la prima volta un gruppo di giovani si risveglia vai in piazza e l'unica cosa che gli viene in mente di ripetere ossessivamente noi siamo i partigiani degli anni 2000 parlo delle sardine ma può essere che magari le sardine se si fossero occupati di dire cacchio perché non investite sulla scuola avrebbero fatto qualcosa di più utile di raccontare che domani mattina c'era il fascismo ma davvero voi pensate Giorgio che Salvini faceva il colpo di stato e prendeva i pieni poteri perché se è una scusa va bene se voi ritenete che un signore in mutande al papete che non è riuscito a governare nessun processo arrivava in Italia smontava la democrazia e istituiva il fascismo voi non sapete di che cosa state parlando e per capirlo basterebbe andarsi a vedere la voce cosa che io faccio fascismo scritta dal signor Benito Mussolini che sul fascismo due cose che potrà dire su cos'è il fascismo nel fascismo tutto è nello stato l'uomo e l'individuo si esauriscono nello stato urca è Salvini è identico proprio ce l'ha è quello che tutti i giorni andava al ministero teorizzava la forza dello stato ma se la destra in Italia l'unica cosa che ha fatto è sempre dire che lo stato fa schifo più libertà per tutti non ci rompete le scatole ma che è la destra fascista per la destra per il fascismo la guerra ma nel senso della conflittualità internazionale elemento dirimente anzi è l'anima dell'uomo che si invera senza la guerra Salvini che mangia gli spaghetti alla matriciana coi gattini questo era il fascismo ed era il fascismo prima caro Giorgio anche Berlusconi perché lo chiamavano il cavaliere nero ed era fascista prima Craxi e sono fascisti tutti perché serve questo beh ve lo provo a dire in questo modo nel 1981 Enrico Berlinguer fece una famosa intervista a Eugenio Scalfa in quella intervista Berlinguer disse e teorizzò la superiorità morale della sinistra due domande dopo Scalfari gli disse sì ok però voi siete social democratici come i vostri colleghi in Europa o no? Enrico Berlinguer si percepisce nella pagina che inorridì dicendo noi non centriamo niente con i social democratici sono brave persone ma non centriamo niente allora vedete io penso che a un certo punto quello che succede nei momenti di difficoltà politica è che il centro sinistra si richiude in un'identità che non è politica ma è morale vale a dire non ha a che fare con quello che fai ma ha a che fare con quello che sei o pretendi di essere vi faccio un esempio e l'esempio sono i decreti sicurezza quando furono varati i decreti sicurezza il PD non disse sono leggi sbagliate disse che era un colpo mortale alla democrazia sono lì da 310 giorni e il problema non è Franceschini, Zingaretti e Bettini che si arrampicano sugli specchi con dei ramponi dicendo ma veramente non è questo il problema è che non insorta la base perché quando gli ha fatti i Salvini la gente è andata in piazza e quella era la base del PD e la base del PD sta lì che aspetta perché dentro c'è l'idea in un pezzo di quella base che se tu gestisci lo Stato con i decreti sicurezza siccome sei buono i decreti sicurezza in qualche modo sono buoni anch'essi o comunque non sono problematici questa identità morale e non politica è la cosa che porta a prendere sempre la strada semplice del dire dell'avversario che è fascista perché è l'unica cosa che tiene insieme una piazza e certo Salvini gioca col fascismo certo e la Meloni anche se no perché avrebbe candidato quel tipo che si chiama Giulio, Caio, Cesare, Mussolini che ha candidato all'europea ma il fatto che queste persone irresponsabilmente giochino con le parole ad alcuni simboli del fascismo per prendersi un elettorato fascista che in Italia c'è stato e quello della MSI valeva il 5% e lì vale non vuol dire che il tema dell'Italia è il rischio del fascismo perché quelle condizioni sono tutte particolari nascono per esempio dal fatto che in quel momento la risposta al fascismo è stato il bienio rosso l'occupazione delle fabbriche l'occupazione delle campagne e il massimalismo di sinistra che porta il fascismo che era morto a essere appoggiato dalla maggioranza degli italiani non è mai una buona soluzione rispondere ai totalitarismi autoritarismi con il massimalismo perché si innesca solo un meccanismo che li porta a essere più forti questo è il primo mostro ed è un mostro che noi continueremo a vedere che percorrerà percorre lo vedete su sui social che non consente di poter neanche dire come io ho detto che ci sono pezzi della lega fatto da persone intelligenti come se davvero noi possiamo pensare che qualunque persona che vota lega o che fa l'amministratore per la lega è un delinquente cretino come se noi potessimo veramente pensare che nel centrodestra dove va il 48% del voto degli italiani sono tutti sostanzialmente autoritari o parafascisti vedete questa è la ragione per cui quello che fai al governo non conta niente perché se tu convinci i tuoi elettori che da un lato ci sono i fascisti e dall'altro i comunisti il resto non conta più assolutamente nulla ti puoi tenere i decreti di sicurezza puoi anche inventarti che conta il grande leader dei riformisti perché quello che conta è solamente il fatto di non avere l'altro e di eliminare ogni rischio di avere l'altro giorgio ma figurati se io penso che salvini avrebbe governato bene io penso semplicemente che così non avete evitato la presa del potere di salvini perché salvini sta esattamente dove stava prima e quello che non ha salvini c'ha la meloni e nel frattempo l'italia è stata governata male perché tu non puoi pensare di salvare in altro modo il paese che fare una battaglia per il recupero della rappresentanza perché questa cosa per cui la responsabilità entra sempre in gioco nel momento in cui ti fa comodo non va bene perché nella destra italiana quello che è successo è che salvini e meloni avevano il due e mezzo per cento si sono andati a recuperare la rappresentanza su un pensiero nuovo che a me fa schifo che si chiama sovranista ma i partiti eredi delle grandi famiglie europee partito popolare europeo forza italia liberal democratici e social democratici non l'hanno mai fatto hanno deciso che si potevano tirare indietro dire che dell'altro era fascista e trovare un accordo e il vedete il secondo mostro che è l'idra di lerna nella mia opinione sapete quel mostro che quando gli taglio una testa ne crescevano tre ercole continuava a tagliarla e non riusciva e io l'ho indicata come l'insoddisfazione per la politica che è questo tarlo continuo che ci porta in questo labirinto dove siamo chiusi a fare svolte sempre più estreme partiamo con la rivoluzione liberale di berlusconi che ha un che di anche sua dente poi arriviamo a divinizzare il loden di monti prima che il monti abbia fatto il primo provvedimento era l'ottanta per cento di popolarità aveva solo il loden non aveva neanche firmato per entrare a palazzo chigi l'ottanta per cento degli italiani dopodiché lo mandiamo in soffitta sempre in modo totale assoluto e non trovi uno che ha sostenuto monti nel senso che poi questi scompaiono è come il fascismo nel 46 trovavi un fascista in italia neanche se lo andavi a cercare con l'umicino e allora questa rimozione dice beh abbiamo fatto l'odemo ci serve la rottamazione di renzi e io rivendico quell'esperienza di governo come una delle esperienze più riformiste che questo paese abbia fatto e siccome lo rivendico dico anche che quello che vedo oggi da parte di renzi è una delle cose meno riformiste nel modo di fare politica che io abbia visto in italia perché non sono come chi rimuove tu puoi dire a una persona abbiamo fatto un cammino insieme l'abbiamo fatto molto bene ma non ti riconosco oggi nei valori che stai praticando e dopo la rottamazione o era troppo poco e quindi il vaffa e poi dopo il vaffa che si è dimostrato rapidamente inconsistente il primo agli italiani da parte di uno che ha testualmente scritto l'italia è un paese di merda che per scriverlo non per dirlo per caso bevendo una birra devi essere motivato a farlo e questa insoddisfazione per la politica è che ci spinge ad avere una cosa da cosa nasce nasce da questo cos'è la politica la politica testualmente etimologicamente è l'arte di governo della polis è l'arte di governo bene nessuno in italia pensa più che la politica arte di governo ti dirò vi dirò di più che la mia massima frustrazione è avere centinaia di risposte a sui miei social di gente che mi dice ma calenda tu sei un bravo tecnico sai governare ma la politica è un'altra cosa e io ogni volta gli domando e che è la politica cos'è qual è questo misterioso mostro che è diventata la politica per cui non è più governare o saper governare è saper prendere il consenso per fare che non si sa anzi lo si sa per farsi poi diventare di nuovo come questa ruota per criceti tenerci insoddisfatti scegliere un altro e ricominciare il paese non è governato e questo è frutto di quel conflitto che vi ho detto del primo capitolo cioè l'idea che se la politica è lo scontro ideologico tra i fascisti e i comunisti e se ogni ogni elezione dal 45 viene presentata come la scelta tra la vittoria dei comunisti nemici della proprietà privata o la vittoria dei fascisti nemici delle libertà se ogni elezione viene presentata così tu hai due cose primo che a un certo punto l'elettorato si radicalizza sul serio e dice aspetta mo mi continui a dire che quelli sono comunisti ma io mo voglio la meloni e salvini perché berlusconi è troppo mosci aspetta un attimo tu fai il giustizialista continuamente ma mo li voglio quelli veri di giustizialisti quelli che vogliono cancellare tutte le garanzie quindi primo questa retorica ha estremizzato la politica e secondo la resa completamente sganciata dai risultati completamente l'unico paese in europa tu puoi dire tutto guardate noi abbiamo avuto due giorni fa il presidente del consiglio che ha detto basta prevoca di autostrade poi ha fatto l'accordo come diceva la de michelis ma mica glielo chiedono noi glielo chiedono assolutamente ma nessuno cioè noi presupponiamo che ci sia anzi che la incoerenza sia la virtù del politico e lo presupponiamo perché non è più una dimensione di quello che fai quello che dici se fai quello che dici no è una cosa iperuranea di scontro ideologico di pensiero di sistemi che si urtano l'uno con l'altro tutte stupidaggi la politica e la ragione della nostra insoddisfazione una sola votiamo persone che non hanno mai gestito una gelateria e gli affidiamo il governo dello stato non c'è altro il resto è fuffa anche perché e qui vado cattivo nel libro analizzato i provvedimenti della governi centrodestra di governi centrosinistra e tolto alcune significative leggi ad personam cioè levate il rumore di sottofondo non vi è alcuna differenza cioè la destra non ha preso provvedimenti di sinistra di sinistra di destra anzi è stata quella che ha aumentato di più gli stipendi al pubblico impiego e quella che ha levato le tasse sulla prima casa poi ha aumentato ha diminuito l'età pensionabile la destra non ha fatto la destra la destra americana la destra italiana non è la destra americana quindi andatevi a vedere i provvedimenti però nel frattempo che si dicevano quello quando c'è la campagna elettorale noi vedevamo quelli che dicevano berlusconi che abolirà le libertà democratiche ci controllerà le mente attraverso le sue televisioni e quell'altro che diceva i comunisti nemici della proprietà privata e dello stato di diritto non è successo niente non ha riformato nessuno la magistratura non hanno fatto niente ora voi capite che noi siamo in una bolla che da qualche parte si deve rompere che forse come l'idra di lerna fu sconfitta sapete come ercole continua a tagliarli questo 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 collo come facciamo noi con i vari no arriva il vaffa il lode ne continuiamo prima e continuiamo a crescere tre a un ceduto chiama il suo amico io lao e allora cosa fa quando lui taglia la testa io lao la cauterizza quel ferro che cauterizza è la consapevolezza nostra non c'è un'altra cosa che può uccidere l'idra dell'insoddisfazione della politica che non cauterizzare la testa dell'idra capendo perché l'abbiamo fatta crescere e ponendoci per la prima volta una domanda di perché voto qual è il criterio su cui voto qual è il ragionamento che faccio per votare e dentro l'idra io racconto anche di un conflitto che voi vedete che è il seguente qual è la giustificazione che danno i politici per non riuscire a governare cioè conte cosa dice quando non riesce a pagare la cassa integrazione nonostante gli avessimo detto per tempo cosa dice dice che c'è la burocrazia urca c'è la burocrazia e quando io andai al mise a me mi dissero guarda carlo tutti i miei amici imprenditori non bomba sei qua presente tu dopo due giorni impazzisci e ti butti dalla finestra bene io al ministero dello sviluppo economico ho fatto tutto quello che volevo io non lo so se è fatto bene ho fatto male ma vi giuro che ho fatto tutto quello che volevo perché perché ho fatto questa cosa inusitata assurda quasi perversa per cui stavo al ministero a gestire i processi di lavoro coi direttori generali cioè quello che fa chiunque di voi in qualunque attività che sia la gestione di un banchetto che vende granite alla brebbo voi dovete immaginarvi invece il sistema politico italiano e amministrativo italiano in questo modo teorizza che il ministro dà solo le linee guida e che la burocrazia implementa nessun ministro frequenta i direttori generali che sono come i direttori delle linee di business c'hanno appena duemila persone l'uno sotto nessun ministro si guarda se un provvedimento che ha fatto ha funzionato come ha funzionato qual è l'efficacia di quel provvedimento vi racconto una storia voi sapete cos'è il camminatore il camminatore è questo quando tu fai un provvedimento al ministero devi avere la bollinatura della ragioneria per avere la bollinatura della ragioneria devi mandare il documento alla ragioneria che è 700 metri dal ministero dello sviluppo economico quanto ci mette una settimana si chiama camminatore nessuno sa dirti il perché come si risolve il camminatore che il ministro dice damme il provvedimento che vado dal ragioniere generale dello stato perché è l'unico modo in cui lo risolvi ed è esattamente quello che ho fatto quando sono arrivato al mese ho fatto una cosa perversa cioè ho detto ditemi dove stanno i soldi perché la prima cosa che ti insegnano in qualunque entità tu vai è dove sono i soldi quanti sono impegnati quanti ne abbiamo bisogno dove troviamo quelli che abbiamo bisogno sei mesi con enrico bondi 10 miliardi e mezzo di fondi non spesi cancellati per fare impresa 4.0 che non ha funzionato perché era geniale ha funzionato perché era semplice ha funzionato perché il ragionamento che abbiamo fatto è molto banale cosa riusciamo a fare e quando io avevo i direttori generali che mi diceva eh no ministro tu devi non puoi dare un incentivo a chiunque investa in tecnologie digitali gli devi dire quali tecnologie noi vogliamo favorire e io gli dico urca e tu lo sai perché se lo sai tu ti devi dimettere fare un'azienda e diventare bezos e poi torni qui e mi sputi in un occhio ma fin quando tu non hai fatto questo tu devi sapere di non sapere e devi dire all'imprenditore io ti do i soldi per investire e solo se investi solo se investi tu prendi il rischio di impresa e ci metti la metà dei soldi dell'investimento e se li perdi è il lavoro dell'imprenditore e se diventi ricco è il lavoro dell'imprenditore questa era mazza una roba complicata non si può proprio fare questa roba qua è una roba che è particolarmente difficile articolata sì lo è perché il pensiero non è quello perché non c'è intermediazione politica perché io non lo so neanche le aziende che hanno usato industria 4.0 so però che i nostri investimenti industriali sono cresciuti più della germania nel 16 e 17 e so che qualunque imbecille dopo è andato a fare il ministero dello sviluppo economico continua a parlare di impresa 4.0 e solo di quello e tutto questo perché perché era semplice vi hanno raccontato che la burocrazia non far funzionare l'italia non vi hanno raccontato che il compito della politica è far funzionare la burocrazia e questa guerra tra poteri che include la giustizia che ha pensato da manipulita in poi di poter essere di potersi salvare dalla disfatta del funzionamento dello stato italiano dicendo ma io metto sotto attacco tutte e due burocrazia e politica fanno la guerra loro due ma io sono più furbo li metto tutte e due dentro ed è una giustizia che per bocca del di un rappresentante nel consiglio superiore della magistratura teorizza che il lavoro della magistratura è moralizzare gli italiani laddove questo è un pensiero da paese totalitario perché il lavoro della magistratura è punire i reati e un comportamento immorale non è un comportamento penalmente rilevante per definizione e il momento che noi accettiamo questo cioè che la compito della magistratura è morale noi abbiamo finito di essere un paese democratico e siamo sulla buona strada e questa è la seconda ragione giorgio insieme al valore dell'educazione della competenza per cui per me un accordo con i 5 stelle è del tutto improponibile perché al fondo una negazione del valore sacro per un liberale cioè il fatto che tu non puoi essere spiato da un trojan che magari è attivo in questo momento e sente qualunque conversazione che non puoi avere reati indefinibili come il traffico di influenze che non si capisce cosa voglia dire che non puoi paralizzare l'italia perché pensi che gli italiani sono tutti ladri e quindi fai i processi più complicati dell'universo mondo sperando di evitare che gli italiani rubino che è il principio per cui gli italiani rubano perché ovviamente la corruzione dipende dal grado di complessità burocratico voi pensate che mettere a posto questo paese sia impossibile siete matti e vi hanno detto questa cosa perché non riescono a fare niente non è vero non c'è nessuna cura nella gestione non c'è nessuno rispetto per le professionalità non si sta dentro al ministero dalla mattina alla sera ma ciascuno di voi chiunque di voi gestisse la sua azienda o il suo edicola in questo modo fallirebbe dopo tre minuti però noi abbiamo pensato e continuiamo a pensare che è vero questo che è la burocrazia e non chiediamo mai con la genesi ma chi è che gestisce la burocrazia ecco io penso che queste cose bisogna incominciare a capirle così come nel libro vado veloce perché non voglio tediarvi e poi soprattutto voglio che compriate il libro se no vi racconto tutto la così come un altro fatto che è straniante questo l'europa io lo chiamo il minotauro ha il corpo bellissimo del sogno del progetto europeo comune la testa orrenda degli stati nazionali che si sono presi a cornate da sempre e cerco di spiegare nel libro cos'è l'europa oggi che l'identità europea non può sostituire quella nazionale perché in divenire ci sarà ma oggi per oggi è per una piccola quantità di persone che ci vanno che la conosco e finché tu non avrai fatto quel lavoro ma quello che mi importa a dirvi è un'altra cosa secondo voi quanti italiani sanno quando parlano di europa di cosa parlano lo dico meglio quando noi diciamo l'europa non fa che è la cosa più comune che viene detta in ogni televisione italiana di che parliamo campagna elettorale per le europee dove qualche voto al pd l'ho aggiunto perché nord est ha superato la media nazionale è l'unico punto cui è cresciuto però diciamo va bene la campagna elettorale per le europee quando facevo gli incontri con gli elettori dicevo cos'è che l'europa non fa e gli elettori mi rispondevano sempre non ci aiuta sui migranti dico ma lo sai che l'unione europea propone da cinque anni la distribuzione obbligatoria dei migranti tra i paesi europei ah ma va sì e allora perché non succede perché non è una competenza europea una competenza degli stati membri non è europa quella quella è l'europa delle nazioni quella che salvini vuole e allora io vi faccio una domanda ma può un cittadino capire e votare consapevolmente per esempio alle elezioni europee senza materialmente sapere neanche vagamente quali sono le competenze che l'europa non lo ha e noi ce ne siamo occupati qualcuno di noi ha pensato che questo doveva essere e non è che questo si ripete sulle regioni perché vedete c'è un capitolo dedicato a questo e voglio dirlo con grande chiarezza qui e lo leggete sul giorno non è mica vero che il federalismo non ha funzionato per niente cose del federalismo non hanno funzionato le infrastrutture strategiche c'è ma il federalismo non è vero che non ha funzionato non ha funzionato per il sud ma per il nord ha funzionato se non ci fosse stato il federalismo il nord era tirato giù dal sud e starebbe oggi come il sud e dire questo non è dire una cosa che è scritto nel libro contro chi sta nel sud ma semplicemente responsabilizzarlo perché vedete io vengo da un giro in sicilia che una regione a statuto speciale come il trentino alto adige con autonomia impositiva con mettere le tasse sapete qual è la prima domanda di tutti i giornali quando va in sicilia cosa lei propone che lo stato faccia per la sicilia sapete qual è la mia risposta assolutamente niente propongo che i siciliani si elegano persone decorose tutte queste pensate tutti questi non detti queste autoillusioni queste questo modo di pensare che in fondo riflette una cosa che norberto bobbio chiamava anche l'eccesso di domanda che c'è nel rapporto tra lo stato e il cittadino norberto bobbio diceva che le democrazie liberali finiscono quando c'è un eccesso di domanda cioè quando i cittadini chiedono tutto non sono pronti a dare sono pronti a dare molto poco e questo eccesso di domanda nella nostra democrazia è stato coltivato dai giornali lo stato deve è una delle cose più frequenti lo stato deve lo stato deve lo stato deve lo stato deve ma lo stato deve quello che può per esempio se non gli paghi le tasse deve poco per esempio se nel tuo bilancio familiare tu consideri le spese alternative in quello dello stato mai per cui puoi aggiungere continuamente i giornali neanche ti chiedono mai ma da dove prendi quei soldi ecco quello fallo l'eccesso di domanda quali sono qual è l'effetto dell'eccesso di domanda io l'avevo scritto anche in orizzonti selvaggi che la ricerca della felicità che come voi sapete nella costituzione americana è sostanzialmente il principio di fondo cioè l'uomo è libero di cercare la sua felicità diventa la garanzia della felicità cioè il fatto che la felicità debba essere garantita ed è il crollo della società dei doveri e alla fine il crollo della società in quanto tale perché non si può comporre solo di diritti sapete dove lo viviamo questo? nella scuola la scuola italiana non è solo trascurata, negletta, è data poco importanza la scuola italiana è invasa dall'influenza nefasta di famiglie che pretendono di gestirla come se fosse il loro anticamera di casa è l'unico paese questo in cui le famiglie fanno ricorso al TAR per i voti scolastici dei figli ora c'è da chiarire, spero di chiarirlo nel mio libro, che non esiste non solo la democrazia senza la scuola, non esiste lo Stato nazionale l'identità repubblicana si forgia a scuola la scuola è dove lo Stato forma i suoi cittadini e dove alle famiglie gli dice vi fermate a quella porta perché lì c'è l'insegnante e l'insegnante non è solo quello che istruisce i vostri figli ma è un pezzo dello Stato che insegna ai vostri figli per esempio che i rapporti umani sono anche rapporti di gerarchia e che piano piano li introducono all'idea che quella persona ti chiede e non ti dà solamente e forse da lì dobbiamo ricominciare nel senso per esempio di dire che oggi data la composizione e la vita delle famiglie lo Stato assicura in tutti i gradi di istruzione il tempo pieno fino alle 4 e mezza e il pomeriggio avvia i ragazzi alla lettura, allo sport e alla socialità sapete dove non accade questo, dove le famiglie non lo vogliono? nel mezzogiorno dove ci sarebbe più bisogno e allora forse c'è un momento in cui lo Stato dice è time out, tu lo puoi volere o non volere ma io non posso accettare un cittadino ignorante perché un cittadino ignorante mina le fondamenta dello Stato e quindi io tuo figlio lo prendo lo tengo a scuola fino alle 4 e mezza, 5 gli insegno a leggere gli faccio consegnare il telefonino la mattina glielo ridò la sera gli insegno a fare scuola e da lì ricomincio a insegnare uno Stato che è fatto di doveri non solo di diritti e che nella vita la felicità non te la dà nessuno la puoi solo ricercare e io ti devo dare i mezzi per ricercarla e questa è una rifondazione morale e etica di questo paese che è necessaria quanto la rifondazione economica di cui noi parliamo continuamente ad abbondanza senza capire che c'è un punto che se una comunità in una comunità mettiamola più semplice voi ai vostri figli cosa chiedete? prima cosa l'istruzione chiedete ai politici di mettere l'istruzione al primo posto? mai, non voi, dando i cittadini italiani domanda fatta agli italiani a un campione italiano è molto rilevante voi andreste in pensione qualche anno più tardi per assicurare la pensione ai vostri figli? il 60% dice no perché sono cattivi? no, perché semplicemente pensano che lo Stato non lo possa più fare non si fidano che lo faccia non si fida che non che istruisca il figlio non si fidano che effettivamente il figlio avrà la pensione e quindi dicono pochi maledetti e subito perché? perché questa non è più una comunità nazionale che si fonda sulla fiducia è una comunità nazionale perché occupa lo stesso spazio ma non si fida della cosa che è l'essenza di un'identità repubblicana cioè lo Stato pensa che quello Stato non è suo non è lui non fa le cose per lui e non si impegna per fargliele fare è come un circolo che è vizioso e per cui ci troviamo in questa situazione surreale per cui mentre ci vogliamo ammazzare l'uni con gli altri metaforicamente considerandosi fascisti, comunisti e lo Stato non lo riconosciamo più poi ci troviamo in una grande difficoltà in un momento come è successo andiamo sui balconi cantiamo tutti insieme e esattamente una settimana dopo ci stiamo rinsultando sui social e tutto questo è ammantato da quella retorica che io ho odiato durante il Covid voglio dire a Giorgio io non penso che sia stato gestito bene penso che sia stato detto agli italiani che dovevano stare a casa e gli italiani ci sono stati penso che invece ci sono stati tantissimi momenti in cui lo Stato doveva fare delle cose che non ha fatto e tutt'oggi ricordatevelo noi abbiamo fatto un'analisi regione per regione della disponibilità di tamponi capacità di reazione medici di medicina generale medici di prevenzione sul territorio non c'è una regione che sta messa bene se il Covid torna e nessuno sta facendo niente compreso il prendere il mess io penso che quello che ammazza questo paese è insieme a quella retorica là la retorica quello scontro là la retorica abbiamo sentito da parte del nostro Presidente del Consiglio cioè l'idea non usciremo tutti i migliori prenderemo consapevolezza di noi non è non si gestisce così un paese ci sono momenti di difficoltà in un paese in cui la leadership si esercita dicendo le cose come stanno con la durezza che serve e dove anche lo sforzo dei cittadini nella durezza diventa uno sforzo chiarificatore perché il cittadino capisce che è in un momento di difficoltà io mi sono stancato di questo paese dove da un lato c'è la guerra civile e dall'altro c'è la retorica dell'unità forse bisognerebbe semplicemente cercare di non avere la guerra civile e non parlare retoricamente del fatto che staremo tutti meglio nel corso di un disastro di proporzione planetario da cui usciremo a parte martoriati come in questa città ma comunque con una tragica recessione economica che colpirà e allora concludo dicendo questo sì è vero la scelta di Giorgio è molto più realista della mia sì è vero il PD è stato è stato un grande partito io penso però che ci vuole l'idea che si possa recuperare la rappresentanza nel paese su fondamenti completamente nuovi che sono quelli che ho cercato di spiegare stasera e ho cercato di non chiamare il mio partito voglio bene all'Italia ma chiamarlo con un nome che ha un significato che è azione e che è una radice culturale che tiene insieme il liberalismo e il socialismo il socialismo nel suo aspetto di avanzamento della società e il liberalismo nel suo aspetto di cura per la potenza della libertà individuale e questi movimenti insieme paradossalmente all'azionismo cattolico e al pensiero di Sturzo che avevano in comune molte cose hanno l'idea della potenza dell'uomo sopra la storia il marxismo no neanche il liberalismo ideologico hanno l'idea che ci sono processi storici che si svolgono nonostante l'uomo e a cui l'uomo non si può opporre anzi li deve solamente favorire questi pensieri che sono la dottrina sociale della chiesa ma anche un pezzo del pensiero progressista dalla fondazione del liberalismo per esempio quello che diceva se non istruite le persone la democrazia cadrà dall'inizio questo pensiero ha il senso dentro della potenza dell'uomo che cambia la storia cioè dell'idea che non è vero che c'è un percorso che è il meno peggio perché la politica in molti momenti della storia così difficili quando la storia torna è invece proprio ribaltare tutto e avere il coraggio di farlo ed è quello che stiamo cercando di fare con grande difficoltà perché siamo partiti piccoli come si parte sempre piccoli e siamo partiti certe volte tra lo scherno per esempio di una stampa che tende a essere cinica per cui per esempio ti chiede la coerenza ma quando fai un gesto di coerenza ti dice che sei un imbecille non capisci l'articolato mondo della politica non ce la farai mai è inutile che ci provi perché non hai fatto una scelta diversa non ho fatto una scelta diversa non abbiamo fatto una scelta diversa perché la storia è tornata in occidente e la storia non si gestisce con il meno peggio ve lo posso giurare che non si gestisce con il meno peggio e noi siamo in un punto in cui o l'Italia seria quella che lavora produce studia si mette insieme e dice avete finito avete finito non me ne può fregare di meno dell'orbace di Salvini o del comunismo di Zingaretti non me ne frega niente noi valutiamo i provvedimenti per quello che sono siamo capaci di dire a un avversario che ha ragione si ha fatto una cosa buona non facciamo una politica adolescenziale siamo coerenti ammettiamo se sbagliamo cerchiamo di fare un ragionamento culturale sul mondo che è quello che abbiamo fatto anche stasera e non parlare sempre solo di dove ti posizioni sei un po' più a sinistra della destra della sinistra della sinistra della destra finché non capisci più niente hai fatto il giro questa è azione e si Giorgio ne abbiamo parlato oggi ragionavamo e Giorgio diceva delle cose giuste cioè diceva ma comunque avrai bisogno del PD certo certo che avremo bisogno dell'alleanza con il PD avremo bisogno dell'alleanza anche con le persone del centro-destra più intelligenti avremo bisogno dell'alleanza di tutti ragazzi questo paese andrà al 170% di debito vuol dire che se la BCE non farà un piano dedicato a noi per tutto il resto dei giorni noi saremo morti e non lo faranno e un giorno verranno molto presto a dirci prendete il mescolo vero per 200 miliardi con la troica e allora lì ci dovrà essere una forza di paese che dice no perché adesso noi mettiamo in piedi un piano industriale per questo paese e lo ribaltiamo fatto e impernato sulla gestione lì certo che ci sarà bisogno Giorgio del PD però ci vuole qualcuno che questa strada la apra perché se no non faremo altro che continuare a palleggiarsi da un lato all'altro spingendoci sempre più sulle estreme e sì voi potete dirmi molti di voi dicono e diranno quando dico voi parlo dei cittadini non di chi sta qui che già dimostra ovviamente un impegno molti diranno ma sì ma io ho la mia attività ed è un casino fare l'imprenditore in Italia io lo dico sempre agli imprenditori quando li incontro quando gli chiedo anche il sostegno finanziario io dico volete aiutarlo o un partito che fa questo questo e questo volete aiutare e mettete nome e cognome lo scrivete e avete il coraggio di dirlo non lo volete aiutare benissimo però non mi venite a rompere le palle sul fatto che questi governano male e hanno chiuso impresa 4.0 perché il momento in cui uno può dire lo Stato fa schifo io me la cavo per conto mio ma poi voto il meno peggio oppure non voto per niente perché così posso dire che io non c'entro niente con questi il messaggio di questo libro è che centriamo tutti con questa situazione e ne usciamo solo se quelli che sono un po' più seri che sono la maggioranza degli italiani incominciano a applicare i criteri della loro vita personale alla politica e tirano fuori il coraggio di capire che il paese fai da te è finito perché non c'è più un paese e non si può fare da soli in questa condizione se questo noi lo sentiamo se su questo noi abbiamo la forza anche di impegnarci io vi dico una cosa che è questa forse c'è anche dentro di noi e dentro azione c'è tantissimi ragazzi che si sono iscritti c'è un capitolo dedicato a loro forse abbiamo anche dentro di noi in questi anni l'idea un po' di un'alienazione no? cioè del fatto che tutto è chiuso nel nostro lavoro nel nostro lavoro che è dignitosissimo importantissimo eppure ci manca una dimensione di impegno quella dimensione era una dimensione anche ideale spirituale se vogliamo e di spirituale ci è rimasto poco in questa società e di ideale ancora meno e allora forse scoprirete come me che era un algito tecnico che mi divertivo solo a gestire che questo ideale e questo spirituale stanno nelle battaglie politiche che si fanno in un banchetto in una sala parlando con le persone che forse questa cosa che io vi chiedo di fare per generosità verso il paese forse non sarà generosità verso il paese ma sarà generosità verso di voi questa è la mia profonda speranza io non ho un grammo di paura di fare questa battaglia sono convinto fino al midollo che gli italiani risponderanno non mi faccio scoraggiare da nessun cinismo da nessuna battuta ricordo sempre a tutti che la Meloni e Salvini sono partiti dal due e mezzo per cento e se io dovessi mai pensare nella mia vita di non essere in grado di fare quello che ha fatto la Meloni prenderei e lì sì mi butterei in un fiume quindi noi siamo qua con le idee con le battaglie e alla fine siamo convinti molto di farcela perché come chiudiamo e chiudiamo sempre così noi sappiamo dentro di noi che con tutte le complessità i difetti le storture i momenti di difficoltà l'Italia ha sempre dimostrato di essere più forte di chi la vuole debole grazie adesso le domande ma quelle cattive però dove chi vuole iniziare prego avevo una domanda riguardo al fatto che lei dice sempre che la rappresentanza va recuperata che la democrazia va sconfitta nella democrazia e a questo proposito volevo chiederle non pensa che ormai il pensiero degli italiani sia anacquato o addirittura distorto da una retorica populista che comunque va avanti dal 94 da quando c'è Berlusconi che comunque è un populismo neoliberale e il populismo in Italia continua fino ad oggi con quello radicale di destra quindi la mia domanda è come pensa di cambiare questo pensiero nella mente di tanti italiani intanto c'è un principio che conosce chi ha fatto delle iniziative industriali l'offerta cambia la domanda se no non ci sarebbe l'iPhone non dobbiamo mai pensare che le cose che sono rimangono così come sono non possiamo pensare che l'azione dell'uomo nella storia non produce effetti sai perché lo pensiamo questa generazione lo pensiamo noi perché negli ultimi trent'anni non c'è stata la storia l'idea era per tutto il mondo molto simile la storia era più o meno un film già scritto saremmo diventati tutti democrazie liberal democratiche il mondo si sarebbe aperto non c'era più un pensiero sull'uomo sulle contraddizioni della globalizzazione contraddizioni umane e allora ci siamo abituati a pensare che in fondo le cose vanno e non siamo noi a determinare come vanno io non penso affatto che gli italiani vogliano il populismo io penso che quello è diventato un meccanismo anche perché gli hanno offerto poco altro e guarda ti dico una cosa c'è stato un momento in cui abbiamo provato a offrirgli una cosa diversa e però l'abbiamo fatto spesso con toni populisti e questo è il rischio anche per me perché siccome sono un passionare ogni tanto la frizione mi sfugge e perché la scorciatoia è facile e ogni tanto sei frustrato dallo spiegare 170 volte il MES l'accordo ASPI l'ILVA dici basta non è che posso fare il tutor a gratis almeno votatemi sopra il 5 comincio a farlo però prima però non lo penso e sono sicuro che non lo pensi neanche tu Giorgio no non lo penso neanch'io io sono convinto che ci sia una ampia insoddisfazione per l'offerta politica di oggi e ci sia la domanda di una politica seria che sia fatta con sincerità anche di rappresentazione dei propri valori questa domanda corrisponde anche questa domanda che oggi non trova secondo me un'offerta adeguata che insomma io faccio tutti gli auguri ovviamente a Carlo ed azione ma non sono convinto se no starei nella stessa formazione che possa essere esaurita da questa iniziativa sono più convinto che possa essere raggiunta da un concorso di iniziative politiche una è quella di azione un'altra può essere quella dei riformisti che coraggiosamente restano nel partito democratico e lavoreranno per fare in modo che sia una forza di cambiamento del nostro paese altri auspicabilmente potrebbero dopo tanto tempo insomma cambiare anche l'orientamento e la leadership della principale forza diciamo che si riconosce nel mondo dei popolari europei per quello che riguarda il nostro paese in questa convergenza io credo come possibilità di salvezza per il nostro paese per lo meno come precondizione politica poi ripeto le cose stanno in piedi se si ha la capacità di affrontare i problemi e di risolverli la democrazia non è una cosa che possiamo dare per scontata ed è in pericolo ogni volta che lasciamo che sia inutile a cambiare e a migliorare la vita delle persone però insomma questa questa convinzione che cioè ci siano tante persone che oggi sono alla ricerca di un'offerta diversa io ce l'ho è anche la ragione per cui condivido il fatto che bisogna tornare a parlare con le persone bisogna conquistarsi sul campo la fiducia di chi oggi è invece scettico sfiduciato o facilmente incline a farsi conquistare da parole facili da slogan suggestivi è un lavoro molto complicato ma credo che valga la pena farlo domanda posso posso parlare dunque sono d'accordo sulla vostra linea e Gori lo sa io purtroppo mi occupo di sanità che è diventato un disastro sono stato primario ospedaliero ma negli ultimi anni perché prima c'erano altri che con migliori meriti venivano avanzati appoggiandosi forse alla politica quella più più disastrante del paese che non è spero la vostra anzi sono sicuro che non è la vostra in questo dramma c'è cascato tutta la bergamasca con con covid sono convinto che non sarebbe successo se avessimo avuto una vecchia figura sul territorio della sanità che si chiamava medico condotto che era sempre reperibile tutta la vita si spostava solo per concorso frequentava l'ospedale per andare a trovare persone gravi non per mandare tutti all'ospedale come è successo perché la conclusione del disastro è stata dare per telefono l'ordine di andare tutti a pronto soccorso come poteva fare fronte a un disastro così con tutta la popolazione a pronto soccorso spinta solo dal telefono senza una visita senza un filtro senza un aiuto infermieristico e sono convinto che si ribarte da lì perché io ho insegnato alle infermieri in ospedale parecchi anni ho battagliato anche per fare essere una sanità più sana più vicina alla gente meno meno confondente meno consumista meno meno distratta da reclam inutili perché la salute si tutela anche personalmente avendo coscienza di sé davanti anche alle malattie possibili ho lavorato 40 anni in ospedale e non sono mai stato recuperato un giorno ecco perché faccio anche attività fisica perché sono in linea con l'addome no se inizi così mi deprimo io e non va bene io regolarmente non faccio posso provare a risponderle su questo punto credo sia importante e vi racconto questo a novembre azione è nata sulla sanità tutti pensavano che sarebbe nata sullo sviluppo economico invece era nata è nata sulla sanità perché ma perché la situazione della sanità italiana era un mezzo disastro mezzo intendendosi che era molto diverso da regione a regione ma eravamo arrivati in media a 13 mesi per una mammografia adesso è peggio e 8 per una visita oncologica media italiana quindi pensate cos'è il sud nella media italiana mancavano circa 30.000 infermieri 40.000 infermieri 10.000 medici largo circa novembre facciamo questo studio Walter Ricciardi è diciamo il coordinatore all'epoca è ancora in azione con un gruppo di persone e diciamo questo che manca la medicina di prossimità totalmente e chi si è fatto male sono quelli che non hanno la medicina di prossimità e manca per esempio i dipartimenti di prevenzione nelle ASL che una volta c'erano erano forti e questa rete sapete quanti giornali hanno scritto di questo progetto zero neanche uno o i dati erano inquietanti cioè se tu dici 13 mesi per una mammografia col tumore al seno che oggi è letteralmente un'epidemia letteralmente io ho avuto mia moglie che l'ha avuto ma ormai stiamo intorno a una donna su nove per dare la dimensione anche perché non c'è più la linea perché? la linea corpore non è corpore però se continui su questa cosa della linea corpore cioè io ti chiederei per due cose siccome io sono proprio una tragedia dal punto di vista fisico sono sovrappeso non faccio sport e fumo anche venga da me che la basta sospendiamo comunque il tema è che non ne parlava nessuno e non c'era verso di farne parlare nel senso che non c'era verso però vi dico anche una cosa sulla sanità lombarda che ho detto oggi nella conferenza stampa che abbiamo fatto in Lombardia alla Pirellone noi siamo passati e questo è tipicamente italiano nel giro del covid da dire che la sanità lombarda era la migliore d'Italia a dire che è la peggiore e questa è una cavolata perché era semplicemente una sanità molto costruita su una cosa che non prevedeva quello che è accaduto e allora forse quello che bisogna ragionare è di dire che bisogna integrarci quei pezzi che la sanità lombarda non ha più e non funzionano senza buttare a male tutto ecco io penso che questo è un po' il ragionamento che ha fatto sulla sanità che rimane però un'emergenza considerate che adesso le liste d'attesa sono raddoppiate raddoppiate e il vero scandalo nazionale è che non troviamo 9.000 borse di studio 350 milioni di euro per quelli che si sono laureati in medicina gli studenti durante una pandemia non troviamo 350 milioni di euro cioè è meno dei risparmi del mes non del mes dei risparmi annuali del mes e non c'è stato verso abbiamo fatto una battaglia o questo governo è riuscito a trovare l'unità per rinnovare quella cosa indecorosa che sono i canoni balneari delle concessioni balneari c'è stato verso sulla questione dei specializzanti mancano 9.000 persone e siccome qui abbiamo fatto non qui a Bergamo ma ovunque una retorica su gli angeli gli eroi eccetera eccetera e poi non trovi 9.000 borse di studio ti rendi conto perché c'è un problema culturale del paese puoi rispondere su Bergamo no no sono molto d'accordo molto d'accordo e anche nel anche nel rifugire però giudizi estremi manichei prima tutti bravissimi poi tutti pessimi in Lombardia le cose sono andate nel modo che sappiamo perché era stata fatta una scelta tra l'altro una scelta fatta durante il mandato di Roberto Maroni se lo vogliamo anche collocare nel tempo che è stata quella di puntare tutto sull'eccellenza ospedaliera e nessuno può negare che gli ospedali della Lombardia non siano tanto quelli pubblici che quelli privati ottimi ospedali sacrificando la medicina di territorio perché si riteneva che questo non fosse importante del resto ricorderete una dichiarazione del numero 2 della Lega di Giancarlo Giorgetti che diceva ma chi se ne importa insomma dei medici di famiglia tanto ormai sono una cosa del passato bene abbiamo scoperto che magari le complicazioni cardiache effettivamente si curano negli ospedali e certamente in Lombardia siamo credo ben assistiti a questo punto di vista ma i virus non si combattono negli ospedali come diceva giustamente e quella cosa è stato un tratto di debolezza della sanità lombarda che abbiamo pagato caramente ora il problema è che non mi sembra si stia facendo nulla di concreto per essere pronti la prossima volta perché la prossima volta potrebbe ovviamente ci auguriamo tutti il contrario essere tra pochi mesi e una risposta dovrebbe essere immediata concreta e questa cosa vi garantisco non sta succedendo anche rispetto a quello che si legge sul giornale cioè piano di vaccinazione anti-influenzale a tappeto a me risulta che la regione Lombardia non ha neanche fatto gli ordini dei vaccini influenzali che quindi non ci saranno a disposizione dei nostri cittadini quando sarà necessario invece distinguere un colpo di tosse provocato da un'influenza eventualmente o da un ritorno del covid domanda domanda c'è un ah lì no il dato è di un microfono e poi anche c'era un ragazzo qui ne prendiamo un altro paio perché sennò ammazziamo la platea perché poi è l'undici di sera una domanda ad entrambi come è una domanda del fare come vedete la possibilità di migliorare la polis dei 60 milioni italiani partendo dalla polis dei 100 mila cittadini di Bergamo o dai 350 milioni di cittadini europei vista l'esperienza adesso in Parlamento che è importante secondo me il principio è portare chi amministra i 100 mila cittadini di Bergamo a gestire il Mise cioè nel senso adesso lo dico banalmente perché lo dicevo quando eravamo nello stesso partito scusa non cerco più di convincere ad entrare in azione sai che sono quelle cose che te le tieni per la soddisfazione di fra sei mesi cioè quando fra sei mesi cioè quindi siamo passati dal fatto di convincere dal fatto che quando fra sei mesi sarà proprio nauseato dirà noi saremo cresciuti ma sai meglio che stai dentro così poi lavoriamo insieme no sto scherzando tra me e Giorgio non esiste questa questione cioè per chiarire non esiste cioè potrebbe stare nel partito più lontano di me e lavoreremo insieme però è così cioè portare le persone che hanno amministrato al governo del paese se tu ti prendi i CV delle persone che sono al governo vedrai che non hanno amministrato niente vuol dire che sono cattive assolutamente no faccio l'esempio del ministro dell'economia il ministro dell'economia è stato un bravissimo presidente della commissione Econ ha straordinario relazione con l'Europa è una persona reputatissima in Europa il lavoro che fa in Europa è perfetto non avendo mai gestito nulla i provvedimenti che fa per l'Italia fanno schifo e dire questo è non dire che quella persona non è o non sarebbe stato per esempio un bravissimo commissario europeo cioè ognuno ha il suo posto io teorizzo questo è un'altra cosa che ho detto prima il cursus honorum guardate era una roba dei romani cioè non è dato che uno che non ha mai fatto un cacchio passa da fare il consigliere comunale di una città di tre abitanti a fare il ministro non si può fare perché come tutto nella vita di nuovo tu devi fare i tuoi passaggi io racconto sempre che quando avendo avuto qualche esperienza manageriale sono diventato vice ministro ho avuto paura di non farci e quando sono diventato ministro ho avuto paura di non farci cioè ho avuto paura perché era una cosa diversa non sapevo non era la mia area di conforto non lo sapevo se ce l'avrei fatta e allora nella mia testa penso questo e dovete capire perché io ho questa avversione perché se la capite così vi viene pure a voi tu pensa io ho paura tu pensa uno che nella vita ha venduto le bibite al San Paolo che aspetta aspetta no no perché il punto è più sostanziale e non è una battuta e vince l'elezione vale il principio di rappresentanza non puoi limitarlo vince l'elezione ha tutto il diritto di fare il ministro però lui dice eh no ragazzi io me la faccio il ministro in fondo al ministero dello sviluppo economico c'è solo quattro ministeri dentro io voglio il quinto il ministero del lavoro allora vedete lì uno si urta perché uno pensa il livello di arroganza cafonaggine e maleducazione nei confronti del paese che ci vuole dentro di uno che non dice porcaccio giuda sono arrivato qua non so come fare fammi circondare di tutte le persone migliori fare un passaggio di consegne col predecessore come dio comanda e lavorare mentre a terra no si mette i compagni di scuola di pomigliano d'arco caccia tutti quelli che hanno gestito le crisi industriali eccetera e dice pure che vuole il ministero del lavoro ma in un paese normale ma ci sarebbe stata una sollevazione per una cosa del genere allora quello che ci vuole è capacità amministrativa e cursus norma dentro azione noi vogliamo persone che facciano bene il consigliere comunale bene il sindaco bene il consigliere regionale bene il deputato e bene il ministro sottosegretario perché le cose quando funzionavano così funzionavano meglio e perché i romani ci hanno governato un impero applicando questo principio tale per cui se tu non avevi fatto tutti i passi in sequenza non accedevi al dato superiore e questo si lega a una questione generazionale che è la seguente noi siamo il paese che frega di più i giovani nell'universo e questo è la società occidentale in generale però vogliamo i politici più giovani che ci siano fra un po' li chiederemo in fasce perché siamo malati di giovanilismo per cui nessuno di noi può ammettere di non essere più giovani quando tu parli con le persone e dice una persona di 80 anni ti dicono è ancora giovane ed è così esattamente come dicono è ancora giovane a tu sei un giovane a un 45enne che non è giovane allora questo meccanismo mentale per cui noi amiamo il giovanilismo e freghiamo i giovani è una cosa su cui dovremmo indagare perché noi non diamo la possibilità al giovane di trovare un decoroso posto di lavoro o almeno la possibilità di giocarsela ma lo vogliamo come ministro degli esteri è un po' confusa come idea su quello che è il processo della allora io penso invece che ci sono lavori in cui l'esperienza è indispensabile e tu non ci puoi arrivare se prima non hai fatto dei passi e quindi raggruppare come cambiare questo raggruppare tutti quelli che i passi li hanno fatti e ognuno di quelli deve avere la sua casella giusta non qualunque casella e questo è il lavoro che purtroppo puoi fare solo facendo politica perché non è che lo posso decidere io perché una mattina mi sveglio e dici tu vai là tu vai là no devi vincere lezioni aggiungo due cose la prima è che sarei pronto a darti anche l'economia se tu passassi però prima del prossimo mese non sono più giovane no la prima è che davvero io credo che nel governo delle città ci siano tante persone brave io conosco tanti colleghi sindaci capaci capaci e molto dediti a quell'aspetto che la politica quella più visibile tende un po' a trascurare cioè a curare dell'esecuzione di ciò che decidono cioè non basta pensare una cosa non basta fare un'intervista non basta neanche arrivare in consiglio comunale e far approvare una delibera quella roba poi va accompagnata fino a che non è arrivata a destinazione e può essere che vada cambiata in corso di 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 esecuzione perché scopri che hai fatto degli errori perché se ti metti anche cosa che si fa raramente a misurare i risultati scopri a volte che non hai pensato la cosa più giusta dall'inizio e allora la correggi per strada allora questo metodo che credo sia quello che accomuna tutti gli amministratori dal più piccolo paese alla grande metropoli quasi quasi tutte le grandi metropoli è una cosa che stranamente sembra non appartenere invece alla dimensione del governo nazionale a parte questo credo insomma personalmente sapete che io penso di avere delle cose da fare qua non l'ho detto sono convinto purtroppo quello che è successo questa primavera se avessi avuto vaga idea che se il mio secondo mandato fosse una cosa noiosa o in discesa ha cambiato completamente il quadro e io penso che questa città non che insomma dipenda tutto da me insomma però quantomeno il mio piccolo contributo a fare in modo che questa città questa comunità si rimette in piedi la voglio dare quindi a questo penso e invece visto che insomma credo che la chiamata che Carlo esercita sui cittadini vada ad intrigare soprattutto un certo tipo di persone che ha voglia di approfondire di capire di leggere un libro appunto io veramente mi aspetterei un po' più di generosità da parte di chi sa da parte di chi ha fatto esperienze nella vita professionale da parte di chi ha anche qualche sicurezza di carattere economico e può permettersi magari di rischiare qualcosa del suo io sono un po' preoccupato di questa cosa che noi guardiamo lo spettacolo della politica lo commentiamo come fosse una partita di calcio diciamo che la nostra squadra sta giocando male ed è vero che spesso gioca male ma non ci viene voglia di fare un passo ed entrare in campo e questa cosa è un po' una corresponsabilità che ci dobbiamo sentire perché appunto non è che quella politica è così perché qualcun altro li ha votati li abbiamo votati noi magari non voi personalmente penso di no insomma però diciamo tra in una condizione democratica come certamente è quella del nostro paese in cui non è vero che uno vale uno ma i voti si contano e non si pesano la responsabilità dei cittadini di essere non soltanto spettatori e critici della politica come sia critici del calcio o degli spettacoli televisivi ma di essere protagonisti con qualche sacrificio anche personale io credo che sia una responsabilità che in questo momento della nostra storia deve chiamare qualcuno di più a fare qualcosa di concreto per il proprio paese c'è un signore qui e un signore in piedi credo no chi è a chi l'avete dato il microfono ah prego buonasera allora io avrei una domanda in merito alla sua idea devi avvicinare il microfono mi sentite sì ok rispetto ai social media alla parte del politico eco si è detto prima che il 50-70% degli adolescenti non ha mai letto un libro in Italia concretamente come fare a convincere un adolescente che vale la pena ancora oggi leggere un libro quando vediamo che effettivamente eh al potere c'è chi i libri forse non li ha mai letti un calciatore prende 10.000 volte in più che eh un medico che oggi abbiamo ci siamo accorti che ci salva la vita come fare concretamente io parlo da ricercatrice allora il grazie come fai all'adolescente lo obblighi a leggere no no cioè io proprio sono totalmente per l'educazione siberiana cioè ve lo dico con grande franchezza i miei figli non hanno i videogiochi e lo so che ricominciamo con sta storia eh e sono obbligati a leggere con la differenza che adesso leggono per conto loro e non vanno a dormire senza legge perché le cose si segnano anche attraverso l'obbligo prima di diventare un piacere questo vale per tutte le cose come fai ad arrivarci beh ci arrivi con tutti i mezzi ci arrivi con i social io provo nel libro lo spiego io uso twitter tantissimo e facebook per rispondere troppo adesso ho smesso ho diminuito perché mi sono rotto un po' le scatole però per esempio è stato per me un grandissimo e perché perché poi tutto questo è fantastico noi quando sono nati i social cosa abbiamo detto che erano una cosa positiva perché consentivano l'interazione tra il politico e il cittadino nessun politico risponde a un cittadino quindi non c'è nessuna interazione e non è che i cittadini smettono di seguire il politico perché non gli risponde no scrivono tonnellate di messaggi sotto i politici dicendo perché io vorrei sapere questo perché tu mi dici questo perché quello non risponde mai neanche una volta e continuano per anni andare avanti allora io ho detto ma sai che faccio ma comincio a rispondere ho iniziato da ministro su Alitalia sulle cose e un po' adesso ne faccio 7-8 non di più al giorno di risposta prima c'era un momento che diciamo era diventato un critico però è questo il lavoro rispondendo continuamente andando in televisione ovunque ovunque perché i talk show dove andiamo dove io vado li vedono in totale tutti messi insieme 6 milioni di persone il restante non vede e non sente niente che ha a che fare con la politica e quindi tu ci devi andare devi andare in trasmissioni che sono molte diverse dal mio background e cercare di spiegare le tue cose lì cercare di farlo allora io penso che un vi dico qual è che penso che sia il conduttore definitivo di contatto con i cittadini con gli adolescenti eccetera è la passione cioè le persone si fidano se capiscono che tu sei appassionato i ragazzi si fidano se tu sentono che tu hai passione e credo che questa è una cosa che è mancata tantissimo alla politica cioè il fatto che si sentisse che la persona è coinvolta in quello che ti dice e dall'altro lato c'è il fatto che le persone che come te che già fanno difficoltà perché una ricercatrice nel nostro paese ha una grande difficoltà purtroppo non sono in Italia a fare ricerca purtroppo non sono in Italia a fare ricerca è questo punto uno che ha è brutto a dirsi ma purtroppo deve fare anche politica cioè a un certo punto né quello che è successo né in passato che le categorie le classi si chiamavano che erano più sfruttate a un certo punto si incacchiavano piavano all'epoca la farcia e il martello la zappa e te la davano in testa e le conquiste sono state fatte così sono state fatte con gli scioperi con le lotte con le manifestazioni con le leggi che poi sono diventate leggi eccetera e adesso è il momento di farlo cioè adesso è il momento della lotta per chi beh per una fetta grossa di giovani scolarizzati è veramente il momento della lotta perché sono quelli più vessati e sono quelli che meritano di più e ottengono di meno e uno potrebbe dovrebbe poterti dire in un mondo ideale che ti sei già hai fatto già una specializzazione stai facendo appunto la ricercatrice e quindi il tuo dovere l'hai fatto e finisce lì purtroppo non è così e quindi o ci stiamo e diciamo vabbè non è così o invece di pigliare la piccozza prendi l'alambicco e glielo tiri in testa ma va fatto così prendiamo ne prendiamo altre due di fila ne fondiamo e poi ne chiudiamo perché io devo firmare tipo spero 300 libri prego qui se no facciamo ah c'era il signor poi però spostatevi di qua perché se no sempre gli stessi dal stesso lato prego una notte nel senso in Italia quando pensiamo chi sono gli italiani più famosi pensiamo a secondo me Dante Petrarca poeti artisti e mai ad esempio a scienziati come Galileo Rita Levi Montalcini e Margarita Hac nel momento in cui appunto secondo me ti devi levare la maschera il sindaco ti autorizza perché sei a distanza di sicurezza se no non si capisce niente va bene scusa ma e appunto in momenti in cui come questo in cui la cultura scientifica sarebbe essenziale che lo avessero i cittadini invece non c'è come si possono affrontare il futuro e le sfide di oggi quando poi si viene il no 5G il no il muos o tanti altri no e in particolar modo ovviamente la scuola è importante per far sì che tutti i cittadini che però andranno a scuola a questo punto avranno le basi sufficienti ma nel momento in cui l'informazione è sempre soprattutto mi viene a dire quella televisiva meno un pochettino meno quella cartacea approssimativa o superficiale e poco concentrata sui temi appunto scientifici del futuro come affrontare il futuro e preparare quindi tutti ad affrontarlo sì qua domanda ne prendiamo tre così poi chiudiamo allora la mia posso abbassare la mascherina devi chiedere al sindaco posso sindaco la responsabilità è sua allora la mia domanda è abbastanza semplice allora lei ha elencato e spiegato approfonditamente tutti i mostri che affliggono l'Italia la mia domanda è rivolta a lei ed è davvero secondo lei riusciremo a sconfiggere questi mostri e se sì in quanto tempo perché io sono un giovane ho vent'anni e mi appassiona molto la politica e tutto e vorrei sapere se secondo lei quando sarà il mio turno o comunque della mia generazione o dei miei figli o dei miei quanti anni hai? vent'anni è già il tuo turno mi sa non è il turno se ce ne hai quindici ma se no oppure va bene le generazioni successive insomma quando si riusciranno a sconfiggere questi mostri ok prendiamo un'altra il signore là grazie ne aveva più di una ma mi limito a una domanda che riguarda il suo pensiero a proposito dell'integrazione perché ricorreva qualche giorno fa l'anniversario della strage di Sebrenica che ha dimostrato come non ci siano dittature o diktat che possano convincere costringere e obbligare le persone che non stanno bene insieme ad accettarsi a comprendersi e questo mi viene da dire potrebbe essere trasposto anche ai giorni nostri che le paure che sono alimentate per esempio dalle destre e che portano loro parecchio consenso ingigantiscono determinate tematiche legate all'immigrazione però che dalla sinistra sono affrontate in modo assolutamente indecente a mio parere perché il bonismo produce più danni di quello cui vorrebbe invece rimedire ecco vorrei sapere parto dalla tua prima di tutto non è vero che non funzionano nel caso da Jugoslavia finché c'era Tito non si muoveva una mosca sì ma era la terza via che era una dittatura di fatto no era una dittatura funzionava e non si muovevano c'è un capitolo del libro su questo allora l'immigrazione è la cosa più complicata che esista al mondo negare questo è una follia spiegare che c'è un sistema multiculturale di accettazione dell'altro che si sviluppa naturalmente e che non è problematica una delle più grandi idiozie della storia è la cosa più complicata dell'universo perché lo devi spiegare che è complicata non perché non debba farla ma perché la puoi fare solo se ne sei consapevole essere consapevoli vuol dire per esempio una cosa cosa succede se a un certo punto i progressisti in tutto il mondo c'è su questo un libro che io cito che è identità di Fukuyama molto bello fanno capire ai loro cittadini che si mobilitano solo quando c'è in gioco un diritto di una minoranza cosa succede nel mondo occidentale cioè se a un certo punto io che devo tutelare le minoranze sono parte della democrazia liberale sono fondamentali ma io mi mobilito con azioni simboliche solo quando il problema è di una minoranza un esempio io ho fatto un giorno un confronto con un ragazzo a una festa dell'unità in cui questo ragazzo mi diceva non è possibile che siete andati in ritardo a Casal Bruciato in occasione di un evento di razzismo e io gli ho detto hai ragione dove bisognava andarci subito però forse bisognava andarci dieci anni prima quando non c'era il problema del razzismo ma smontavano il consultorio familiare perché se l'unica volta che vedi un parlamentare è in una borgata di Roma e quando c'è un episodio di razzismo beh ti garantisco che quello diventa tutto un quartiere razzista perché loro ti dicono giustamente c'è saltata l'acqua non ci abbiamo in consultorio non ci riparate le strade non si è fatto mai vedere uno di voi c'è un problema che ha una minoranza e vi mobilitate tutti allora questo va gestito con estrema cautela perché il fatto di tutelare le minoranze dovere è sacrosanto per un liberale non può mai voler dire dare la sensazione che non ti curi della maggioranza e quando tu metti e affronti l'immigrazione dal punto di vista morale tu hai già perso perché l'immigrazione non può essere affrontata dal punto di vista morale nel mio libro faccio un esempio gli italiani in grande maggioranza vogliono lo use culture credo quasi il 70% gli italiani non sono razzisti vogliono una cosa che l'immigrazione non vada fuori controllo cioè vogliono in altre parole che la migrazione sia gestita e controllata e cosa succede che se tu gli dici aspetta bene l'alternativa è o i porti aperti o i porti chiusi la risposta è i porti chiusi perché io voglio che sia controllato e ti posso dire se l'alternativa fosse i porti aperti a chiunque o i porti chiusi io risponderei ai porti chiusi perché ma perché i porti aperti non possono essere aperti a chiunque voglia venire avendo un continente che cresce di un miliardo di persone nei prossimi anni ed è del tutto evidente che quando tu stai dicendo questo stai prendendo in giro l'elettore perché i porti non sono mai stati aperti quando c'era la sinistra mai e non sono mai stati chiusi quando c'era la destra quindi noi abbiamo fatto dell'immigrazione un dibattito ideologico quando il problema è più complesso è difficile che c'è e se la sinistra avesse risposto alla destra io voglio l'immigrazione ma controllata verificata espellere guarda ti dico una cosa tolto forse il sindaco tu a uno di sinistra del PD non glielo farai mai dire le seguenti cose in Italia deve entrare solo chi ha diritto di entrare è la legge è la legge ma non riuscirà a dirlo non ti riusciranno mai a dire che i confini sono definiscono lo Stato e come tali vanno presidiati e chi ti dice che i confini non esistono ti sta dicendo che lo Stato non esiste non ti potrà mai dire che la cultura nazionale è la cultura nazionale esiste è definita tale per cui tu tuteli il fatto che chi viene possa esercitare la sua religione la sua cosa ma mai contro la cultura nazionale perché quella non è una libertà è l'oppressione della minoranza sulla maggioranza ora è molto complicato e c'è una letteratura sconfinata se ti interessa sulla questione della coesistenza delle religioni Charles Taylor è il più grande studioso che ha scritto molto su questo ed è bisogna essere molto pragmatici però faccio l'esempio del presepo io sono per la scuola laica ok sono laico e sono ateo cioè non credo in Dio non bacio i rosari rispetto profondamente non sono a favore della secolarizzazione cioè penso che se ci fossero più persone credenti saremmo mediamente messi meglio quindi non è un problema di fede ma se tu dici che il presepe non può stare a scuola come elemento della tua tradizione perché è un elemento della tradizione non è una forma di discriminazione perché se no offendi chi non è cristiano tu offendi tutti quelli che sono cristiani e se tu non hai l'abilità di capire che queste due cose cioè i diritti della maggioranza i diritti della minoranza devono convivere tu devi far sentire accudita la maggioranza quanto la minoranza tu prepari il terreno per i populisti e se tu predichi e dici che non esiste un'identità nazionale perché esiste una vaga identità internazionale di cui nessuno conosce i confini tu prepari l'avvento dell'identità etnica che è quello che vuole la destra cioè l'identità non è più repubblicana non è più dentro le istituzioni ma è etnica dipende da dove sei nato allora tutto questo è stato affrontato in modo estremamente semplicissimo e ha portato su un piatto d'argento una roba che io ho provato a spiegare lo slogan prima gli italiani che deriva da America First eccetera è uno slogan idiota non perché è sbagliato ma perché è evidente cioè non è che quando io vado a governare il ministero dello sviluppo economico governo per i croati governo e giuro in nome per i cittadini italiani quindi se uno risponde a Salvini oh hai detto prima gli italiani gli italiani si incacchia se tu rispondi appunto imbecille quindi vai in ufficio perché sennò non governi né per gli italiani né per i croati né per i genovesi né per i la risolvi il terreno dello scontro ideologico è il terreno dove non devi mai scendere soprattutto sull'immigrazione perché è un fenomeno di governo complesso su la questione quanto ci vuole non dipende dalla storia dipende da noi cioè ci vuole il tempo in cui noi ci mettiamo in moto e lo facciamo accadere amore mio dipende integralmente dal farlo cioè voglio voglio dire c'era qualcuno che poteva immaginare che il bolshevik una minoranza nel partito socialista sovietico che non contava niente a un certo punto avrebbero determinato nel giro di quattro giorni la caduta del dello zar e preso il potere no e l'hanno fatto cioè la storia noi non siamo più abituati perché non ce l'abbiamo avuta in questi anni siamo un po' atrofizzati la storia è quello che noi facciamo quindi non puoi non c'è un dato se si può fare o no se si può fare o no dipende integralmente da quello che facciamo noi e in particolare da quello che fai tu perché la tua generazione è proprio la tua che non ci arriva se no perché tu sei quello che proprio la prende in faccia totalmente la prende in faccia per questo io sono furibondo con le sardine perché era uno strumento un grande cosa di mobilitazione che ha proprio scelto la cosa più vecchia dell'universo si fossero mobilitati sulla scuola si fossero mobilitati io quella cosa l'avrei capito sei mobiliti sull'antifascismo sei il diciottesimo nella fila sulla sui media che poi la domanda è quella io scrivo un capitolo sui media spiego perché i media hanno cessato di fare informazione e fanno cronaca sostanzialmente ciò dipende anche dal fatto che lo scrivevo nel libro prima 50% di italiani non sa cos'è una percentuale e tu non puoi fare informazione senza una percentuale prova a descrivere quanti extracomunitari ci sono in Italia senza percentuale non puoi fatto sta che infatti noi pensiamo che siano il 30% di italiani sono meno del 10 30% vuol dire che una persona su tre che incontrate camminando è un extracomunitario e lo capisci che non è così però la percezione qual è? che siccome io non te lo posso spiegare come informazione ti faccio vedere storie di extracomunitari e siccome le storie sono per definizione negative mica ti faccio vedere le storie di tutti quei milioni di extracomunitari che lavorano nel paese e fanno il loro lavoro tornano a casa no ti faccio vedere quello che tira una cosa in testa al poliziotto brucia un gatto perché fa audience questo è determinato un po' quindi dal livello di basso di istruzione e un po' dal fatto che i media italiani sono sfibrati io lì faccio una proposta in particolare sulla stampa io propongo questo siccome Giorgio è molto stanco e quelli del PD non vanno oltre le 11 di sera non sono abituati alle discussioni politiche e culturali perché non le fanno da molti anni sto scherzando se siete d'accordo io do la parola a Giorgio per la prolusione finale e poi mi fermo tutto il tempo che serve per firmare tutte le moltissime copie dei moltissimi libri che avrete comprato intanto vi ringrazio molto grazie non c'è prolusione state tranquilli se fate una certa vorrei soltanto sottolineare ma credo l'abbiate colto da voi quanto al di là di scelte contingenti diciamo che ci vedono subarti in realtà come dire ci siano davvero punti di contatto molto evidenti desiderio di fare anche le cose insieme io devo dire faccio fatica a considerare le scissioni come un alibi qualcuno dice ma se non avessimo avuto le scissioni staremmo sei punti sopra no io credo che le scissioni siano sconfitte invece penso che siano sconfitte frutto di errori non solo da una parte peraltro e e credo che un grande partito che ha visto negli ultimi 12 mesi pezzi significativi della propria storia perché insomma Matteo Renzi è stato segretario di quel partito ed è quello che lo ha portato ai più alti livelli di consenso negli ultimi tempi e Carlo è stato un ottimo ministro che ci ha ben rappresentato ed è stato il più votato tra i candidati alle elezioni europee e un partito che perde questi pezzi abbia il dovere di continuare a dialogarci io credo che questo sia assolutamente prioritario il l'idea che il nostro elettorato nostro tra virgolette sia quello che è rimasto o sia da cercare volgendosi da altre parti secondo me è un errore io credo che il dialogo con i riformisti ancorché oggi con magliette diverse addosso con diverse insegne sia prioritario sia la precondizione per provare a cambiare le cose quindi per quello che potrò insomma rimanendo fedele e convinto insomma che il partito democratico debba essere la principale forza del cambiamento in questo paese sarà quello di tenere aperto il dialogo costruttivo con chi sta in queste formazioni grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti